Cosa c'è di meglio di una buona idea? Secondo Robert Toll, un economista della Stanford University, cito testualmente, portare a termine una buona idea è meglio che semplicemente avere una buona idea. E per quanto faccia sorridere questa affermazione, è esattamente la cosa più importante che separa dall'avere una vera idea e trasformarla in qualcosa di concreto. Perché è pieno di persone che hanno grandissime idee e se ci spostiamo nel mondo imprenditoriale, ci sono veramente imprenditori che sono di vulcani, che non si alzano la mattina senza avere già dieci nuove idee, averle stravolte tutta la sera e averne ideate altre cento. E non è tanto l'idea stessa a fare la differenza, ma l'applicazione. Non è la prima persona a fare questa affermazione perché veramente tantissimi autori sostengono la stessa cosa, che la differenza vera tra chi ottiene dei risultati e chi no è proprio il mettere in pratica ciò che hanno in testa. Quindi oggi voglio chiederti, sono sicuro che anche a te sarà successo di avere delle idee che ritieni tutto sommato buone. Ma ti sei iniziato a muovere per metterli in pratica? Perché la differenza sta tutta lì. Riflettaci attentamente perché è più importante di quel che sembra. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, la scusa di non sapere da dove iniziare è appunto solo una scusa, perché se credete veramente nella vostra idea inizierete a muovervi per cercare delle soluzioni, per trovare delle persone che vi possono accompagnare, sostenere, magari degli investitori, per cercare di trasformare questa idea da qualcosa di astratto a qualcosa di concreto e pratico. Ma finché tutto rimane nella vostra testa, sappiate che i risultati non arriveranno mai e probabilmente se l'idea è davvero geniale e buona, qualcuno la farà prima di voi e voi resterete a guardare pensando, mannaggia, l'avrei potuto fare io. Quindi mettetevi subito in moto. Con questo è tutto davvero e vi saluto. Ciao!